Eccoci qua, buona serata amici, benvenuti, come sempre il venerdì è quello che con i live chiude la settimana, è il momento di Casa Caffè ed è il momento in cui ci diamo un po' di carica o andiamo in cerca di qualche novità, perché? Perché sono la novità della settimana, cosa sono? 75 simboli che si possono presentare alle prossime elezioni, quindi se ne è parlato, se ne sono detti voi tutti i colori, vuoi vedere che il curiosone di Claudio Casoratti non va a cercare qualcosa da dire su questo? Ebbene sì, allora se vedete già il nostro titolo, Movimento Gente Onesta, questo è l'argomento della serata, perché? Perché è un movimento che esiste, se altrimenti non avremo qui ospite con noi, ne abbiamo il Presidente ospite e già cominceremo a parlare allora di questa cosa, di questa tornata elettorale che io, come ho sempre detto, fino a quando non sarò con la scheda in mano, pronta da inserire nell'urna, ancora non ci credo. Sono le mie solite paturnie, però in realtà, insomma, ci possono essere mille ragioni perché qualcuno dall'alto fa in modo che si sposti qualcosa, speriamo di no, perché altrimenti non votiamo più, però queste sono le cose che dico sempre io, che è un pochettino, con i politici tradizionali, soprattutto quelli attuali, e ho sempre avuto la mia battutina, fa parte di me, senza cattiveria, però giusto per puntualizzare che certe volte sono un po' mancati a qualche loro promessa. E allora, andiamo a conoscere Giuseppe Prete, Presidente del Movimento Gente Onesta. Benvenuto Giuseppe, intanto, grazie di essere qui. Grazie, buonasera a tutti i quanti. Ecco, è arrivato subito un commento ante litteram, proprio prima ancora di cominciare ho visto uno dei nostri ascoltatori che ha scritto, è onestà, questa cosa parzialmente sconosciuta. Allora, andiamo in cerca subito di capire. Intanto, il Movimento, questo nome è una cosa molto forte, una cosa che si intende, almeno da come la intendo io, che se riesce ad affermarsi, sicuramente detta una linea diversa da quella della politica attuale. Quindi un po' più di chiarezza, anzi no, la chiarezza assoluta e soprattutto un'onestà intellettuale, immagino. Ecco, se ho sbagliato, dimmelo tu. E cominciamo a parlare allora delle idee del Movimento. Sai cosa mi stupisce? Che quando si parla di onestà ancora molti la mettono in dubbio. Questa è la cosa che veramente mi stupisce. Tanta gente mi dice, ma chi vi ha dato la patente dell'onestà? Io rispondo sempre, dico veramente fino a parola contraria si nasce onesti, no? Poi bisogna vedere nel cammino, nel durante, qual è il percorso di vita che tu vuoi scegliere, se vuoi rimanere persone oneste o se invece vuoi essere il contrario. Però, voglio dire, per fortuna ci sono tante persone oneste perché non debbano esserci, perché ogni volta che noi diciamo siamo persone oneste veniamo sempre attaccati e accusati. Capisco che la politica ha sempre un po' rovinato, cioè la politica, diciamo che proprio l'onestà all'interno della politica non esiste e quindi il cittadino si è talmente disaffezionato, si è talmente allontanato che qualsiasi cosa che vede la vede sempre sporca, no? E quindi quando viene fuori un movimento come il nostro, allora paradossalmente siamo noi ad essere attaccati piuttosto che attaccare chi oggi ci ha distrutto. Però, voglio dire, io l'ho voluto questo nome, Movimento Gente Onesta, ma più che altro perché volevo lanciare una provocazione. È una provocazione che poi alla fine si è raccolta, perché se va a vedere tutti gli slogan di Berlusconi oggi mette al primo posto onestà. Quindi vuol dire che ho colpito nel segno. Poi, se Berlusconi parla di onestà, allora lì veramente ti viene da fare due risate. Noi lo siamo, anche perché voglio dire, sappiamo come funziona anche la politica che ti fa la radiografia, grazie a Dio scheletri non ne abbiamo, però ci stiamo provando. Ho sempre detto che i disonesti, per essere disonesti, si sono formati in dei gruppi. E questi gruppi poi hanno portato delle persone in Parlamento perché potessero fare il loro tornaconto. Una volta che c'è un gruppo di persone oneste, di genitori, che hanno sempre vissuto con un'onestà intellettuale, che non hanno mai fatto politica, si mettono in un gruppo e dicono vogliamo cambiare un po', provare a cambiare le sorti del Paese, perché oggi deve stupire. E questa è la cosa che veramente mi lascia un po' perplesso. È chiaro che a noi sta poi la responsabilità di dimostrare quello che veramente vogliamo fare. Ma se uno si presenta con un simbolo, Movimento Gente Onesta, come fa a poi diventare disonesto? Compromette tutta la mission del Movimento. Ecco, infatti il problema dei politici normalmente, e qui ripetisco la questione, come si diceva, sì, Berlusconi la basa sull'onestà, l'onestà intellettuale di chi dice se perdo il referendum e mi ritiro addirittura dalla politica, non passo più politica, poi invece lo troviamo qui pronto ad alzannare, quindi vuol dire che effettivamente nella politica una formula di onestà non c'è proprio. Però credo che i movimenti che arrivano adesso nella politica, appunto perché non hanno scheletri, possono provare almeno, identificando all'interno delle persone giuste, però ovviamente che non abbiano scheletri negli armadi, perché sono un punto di prima, e dettare delle, non delle regole, perché le regole in politica non esistono, però una linea guida sì, no? La linea guida che è, intanto quello che dico lo faccio, se ci riesco, indubbiamente, nessuno può dire lo faccio di sicuro, però io proverò a fare questo, quindi immagino niente grossi proclami perché tasse zero e pensioni a 5.000 euro per la minima, è tutto gratis per tutti, non lo possiamo fare, non siamo ancora stati esteri, perché le cose di questo genere possono esserci in altri stati, magari nel nord dell'Europa, dove riescono magari ad amministrare meglio le cose, ma sono partiti prima però, sono partiti prima di noi ad amministrare bene le cose. E allora cosa potremmo cominciare a mettere a posto di questa cosa che non va? Perché i problemi in cui viaggiamo adesso solo dal, la chiamano invasione di migranti, dal fatto che vengono privilegiati solamente determinate caste e non ci si interessa degli altri, il problema degli anziani, no? Che patiscono e non vengono aiutati. Dov'è che potremmo mettere le mani, potendolo fare, avendo un momento di autorità al governo? Intanto, prima di rispondere a questa, me ne ha fatte tante di domande, devo ricordarmele tutte, se me ne perdo qualcuna, poi lei ovviamente me lo ricorda. Parto da Renzi, quando lei ha parlato di Renzi sulla sua onestà intellettuale. Beh, io devo dire che Renzi, credo che, onesto non lo so, ho dei dubbi su di lui, no? Però io credo che lui si sia lasciato prendere da un delirio di onnipotenza, che è lo stesso che ha preso anche Berlusconi, cioè che arriva in quel palazzo che poi diventa primo ministro, si lascia prendere dal delirio di onnipotenza. Questo fa sì che si dimenticano quelli che sono gli interessi degli italiani e si pensano ai propri. Poi, si sa, in politica si è manovrati. Io ho sempre detto che Renzi è una persona manovrata, non è tutta farina del suo sacco, perché altrimenti non prenderebbero uno da un comune e lo metterebbero lì nel primo posto, nel primo scanno, è lo scanno più importante. E infatti, i fatti poi lo hanno dimostrato. Però, chiuso l'argomento Renzi, perché voglio dire, poi si commenta per quello che è, tant'è vero che nonostante il suo sempre delirio crescente di onnipotenza, sta affossando completamente il PD e da una parte lo devo anche ringraziare, sperando che non vadano tutti a destra e che il cittadino scelga movimenti, partiti come il nostro, che veramente hanno questa grande intenzione. Lei mi fa la domanda e mi dice da che cosa si deve partire? Beh, allora intanto si deve partire, si deve fermare la casta. Questa è la cosa più importante, perché quando c'è un disagio sempre più crescente è perché la casta aumenta sempre di più. La casta per aumentare, per fare cassa e per guadagnare soldi deve schiacciare il basso. È sempre stata questa la regola. Il tema è che questo disagio lo si deve sempre tenere sotto controllo e farlo crescere, perché ormai siamo arrivati ad essere in un momento in cui l'ingordigia di questa casta è talmente sempre più crescente che ormai hanno perso la visione degli italiani e devono sempre sviluppare più interessi che poi interessi ovviamente che non sono soltanto interni ma sono anche esteri. E quindi, voglio dire, si deve tenere sotto controllo il povero, si deve creare il disagio, si devono far chiudere le imprese e questi sempre devono diventare ricchi. Se fossi al governo, io la prima cosa che farei, se fossi al governo, magari ci arrivassi al governo, intanto sono candidato, ma se arrivassi al governo, beh la prima cosa che farei è fare i tagli, i tagli, perché oggi la liquidità in Italia non manca. Lo dico, sono anche un bancario, quindi anche un economista e faccio gli studi. La liquidità in Italia non manca. Certo, se ne stanno andando via con la delocalizzazione delle imprese, però in Italia la liquidità non manca. Bisogna rimettere ordine nei conti dello Stato. Bisogna intanto capire da dove arriva tutto questo debito che noi abbiamo. Arriva dagli enti locali, dagli enti regionali, perché il maggiore getto e il maggiore debito arriva da lì. Poi diciamo che a Roma, nel Palazzo, non c'è un controllo adeguato e sì che si lascia ancora di più sperperare, anzi, se ne approfitta. E quindi bisogna intervenire negli sprechi. Quando si parla di sprechi, però, io non vado in televisione a fare come fanno i politici che poi riescono a prendere voti, dicendo togliamo le auto blu. Perché se poi qualcuno va a guardare quant'è il costo effettivo delle auto blu, premesso che ce ne sono tantissimi, io non capisco perché ancora la russa che è stato, ministro, ancora oggi cammina con la scorta, ma parlo di la russa e posso fare l'elenco anche di tutti quanti gli altri che camminano con le auto blu, io dico, beh, sono inutili. Posso pensare che le auto blu le devo dare a chi oggi rappresenta la maggioranza. Però io mi sono fatto anche lo studio di quanto rappresenta il costo. Devo dire che non è così grave, non stiamo parlando di miliardi. In realtà lo spreco è proprio nelle pubbliche amministrazioni, lo spreco lo produce anche il Parlamento. Stiamo parlando di somme di oltre 500 miliardi di euro. Quando io lo dico in giro tutti quanti mi danno del pazzo. E io dico, non è così, perché in questo calderone, in questi 500 miliardi di euro, che sono 554, tu devi prendere tutti i bilanci di tutti gli enti e poi alla fine dici, questo è effettivamente il costo, sono gli sprechi. Poi vai ad analizzare voce per voce. Noi l'abbiamo fatto, io l'ho fatto. Si pensi quant'è il costo dei parlamentari, che non è il costo dello stipendio, perché anche lì quando vanno sempre in politica parlano del costo. No, bisogna aggiungere le spese, i benefit. Bisogna andare proprio dentro, guardare, che poi lo possono fare tutti i cittadini, ma se vanno sui siti della Camera del Senato, se riescono a leggere le voci. Parliamo di benefit, l'assicurazione, la nursery, parliamo di babysitter, di tutti i costi che non si vedono ma che in realtà ci sono, che complessivamente superano abbondantemente per tutti i deputati, per 900 deputati, abbondantemente costi complessivi anche della Camera, quindi anche dipendenti, pari a 28 miliardi di euro. Questo è un esempio. Poi parliamo di corruttela, perché la corruttela è comunque anche questo, un elemento che produce il taglio. La corruttela parliamo di miliardi di euro, nonostante avessero approvato l'authority che doveva controllare la semplificazione, quindi la corruttela è aumentata, perché si dice sempre che fatta la legge è trovato l'inganno. Gli italiani noi siamo bravi in questo, e quindi è aumentata anche lì. Ma ci sono tanti anche sprechi, molti sprechi, opere pubbliche, tante opere pubbliche, autostrade, vediamo sempre continuamente cantieri aperti. Beh, io sono andato a fondo di tutte queste opere, di tutti questi... Beh, devo dire, c'è un tasso di corruttela altissimo, e questa è la verità. E allora io che cosa vorrei fare come prima cosa? Vorrei intervenire proprio nell'ambito di questi sprechi. Pensi che in questi cinque anni di cui io mi sono formato politicamente, ero semplicemente un bancario, un dirigente bancario, poi ho deciso nel 2013 di aprire questo movimento, ho cominciato a studiare anche le leggi e non solo, ho cominciato anche ad avvicinarmi nel loro mondo, ho parlato anche con tanti di loro. Beh, ho imparato tantissimo, mi dicevano che all'interno di leggi mettevano dentro degli emendamenti che favorivano una parte della casta, quindi favorivano le lobby farmaceutiche, adesso favorivano le lobby dei metalli, è sempre stato così. Ci siamo fatti anche, abbiamo fatto anche uno studio di queste leggi, abbiamo trovato addirittura delle leggi che per alcuni, per chi lo sa, produce addirittura una tassazione più bassa di quella che oggi produce e che propone Berlusconi. Cioè, questi si fanno le leggi, produmono loro, e questo è il tema. Allora, se noi andiamo ad analizzare tutto quanto, gli sprechi sono 554 miliardi di euro, salveremo una nazione, allora bisogna redistribuire. Non vorrei dire che veramente 554 miliardi, averli così disponibili, ci cambia la vita. Allora, non è che, attenzione, è che tu intervieni e questi 554 miliardi di euro saltano fuori all'improvviso, devi bloccare le opere che non servono soprattutto, devi bloccare la parte della corruzione perché favorisce molto corruzione questa parte di liquidità e soprattutto devi redistribuire, cioè devi fare una riclassificazione del bilancio. Come si fa quando si deve esaminare un'azienda che va male? La si deve riclassificare e poi si deve andare a vedere dove intervenire, come intervenire per riequilibrare un'azienda se la si vuole proiettare in avanti. Lo Stato italiano non può fallire e quindi bisogna riequilibrare quei conti, ma soprattutto bisogna fermare quei conti, gli sprechi che la casta ha voluto e che questi sia da destra che da sinistra hanno prodotto negli anni, altrimenti non avremmo un tasso di povertà molto alto, altrimenti non avremmo un debito sempre più crescente, altrimenti noi non saremmo un paese dove siamo a rischio di default. Il problema è che questi signori della politica lo sanno, conoscono la materia, ma di fatto non aiutano il cittadino. Perché? Perché devono favorire la casta e purtroppo è una cosa che si sa, è come la borsa, se da una parte c'è uno che guadagna dall'altra perde. La casta non vuole perdere, vuole solo guadagnare e quindi bisogna produrre la povertà, ma questa è una cosa elementare. Ecco, una delle cose che ho dimenticato di dire a inizio di trasmissione è ovviamente che avete il solito contatto con noi, che è il 349 06 34 349. Ovviamente vale solo per i messaggi, non tanto per le chiamate in diretta, ma se avete anche voi qualcosa da suggerire, perché gli interventi sono sì, ovviamente fare in modo che la casta per esempio non se ne debba approfittare così. E poi io aggiungerei una cosa, allora, tanto per dire, se ci sono 28 miliardi per 900 persone, no? Abbiamo fatto questo calcolo qui. Impressivamente con i costi anche della Camera, includiamo anche i dipendenti, includiamo tutto. Perfetto, ma se noi da 900 li facciamo diventare 300 e riduciamo quindi il personale in base a questa cosa, che differenza potrebbe esserci? Cioè perché 900 persone? A che servono? E 300 non vanno bene? Anche 200 secondo me, no? Tanto si tratta che alla fine abbiano come valenza una percentuale più alta nella quantità del voto finale, perché se su 100 persone uno all'1%, su 900 non ha niente. Quindi, cioè, allora andremo a cercare dei decimali in caso di votazione un po' strani, ma per il resto cosa? Come mai 900? Perché? E da una parte sola, fra l'altra. Beh, allora, perché 900? Questo lo deve alla storia. Eh, lo so, però non si può cambiare la storia. Sì, si deve cambiare. Attenzione però che non si faccia l'errore, non si faccia l'errore di dire che Renzi nel referendum voleva cambiare, voleva ridurre il numero dei parlamentari. Perché Renzi stava proponendo, no, Renzi stava proponendo una formula diversa, cioè quella di fare un'unica Camera che potesse consegnare il potere a un unico partito, lui si sentiva forte di quel 40% e quindi non era quella la riduzione. Noi invece diciamo che si possono mantenere le due Camere perché hanno due funzioni diverse. Magari io potenzierei più la funzione del Senato perché voglio dire è semplicemente un approvare quello che fa la Camera. Però sì, si deve ridurre, si deve ridurre il numero dei parlamentari. Non come disse Berlusconi una volta, bastano dieci persone perché qui allora è come dire torniamo alla dittatura, io sono il re, sono l'imperatore, sono il duce, era questa la battuta di Berlusconi. No, si deve ridurre il numero dei parlamentari. Però anche 900 possono anche servire, se però 900 parlamentari perché la filosofia qual era? Di avere 900 parlamentari che fossero 900 parlamentari di territorio, che ciascuno fosse sul territorio, lavorasse a fianco del cittadino, che avesse un contatto diretto con il cittadino, che facesse una mappatura e che fosse d'aiuto e di supporto al cittadino. In realtà non è più così, hanno chiuso le segreterie politiche, i parlamentari non sappiamo nemmeno chi sono perché quando uno dice piacere sono il parlamentare mai visto. oggi sono soltanto dei parlamentari come li ha chiamati il Movimento 5 Stelle, le sentinelle compresi anche loro che sono sentinelle, a schiacciare come dice la maraviglia a struccarle il bottone. Una volta alzavano la mano adesso schiacciano. Ancora oggi, ancora oggi perché io vado ogni tanto a Sista, ancora oggi loro fanno, nonostante mettono le digitali, mettono le impronte, mi creda, struccano il bottone tranquillamente. Quindi la funzione non serve. se fossero 900 a servizio al cittadino allora uno dice sono soldi spesi bene, ma non sono 900 parlamentari che spendono e che fanno il favore dei cittadini, tanto è vero che vediamo la miseria che sta sempre crescendo. Allora bisognerebbe a questo punto, visto che siamo in un'ottica di taglio di costi, ridurre il numero. Se 900 non producono allora riduciamoli e cerchiamo però di dare magari un po' più di potere a loro e toglierli ai capi partiti, perché il tema in Parlamento è che oggi quando entrerà Forza Italia comanderà sempre Berlusconi anche se Berlusconi non entra. Quindi il problema è che oggi noi abbiamo tanti parlamentari che stanno lì e che non fanno niente. Abbiamo solo i capi partiti, esatto, quando invece il parlamentare ha una funzione che deve lavorare secondo coscienza, che non è detto che debba sempre approvare secondo le indicazioni di partito, deve avere una sua coscienza. Questa coscienza non ce l'hanno, hanno una malcoscienza, tant'è vero che in questo Parlamento, ultimo Parlamento, oltre ad aver avuto tre presidenti del Consiglio che poi la gente diceva abusivi, però in un governo di sinistra abbiamo avuto la più alta percentuale di cambi di casacca ai 500 che non erano cambi di casacca a coscienza ma erano a malcoscienza perché c'è stato veramente, ma lasciamo perdere. Questo Parlamento è proprio da archiviare e da chiudere. Ecco, sono queste le cose. Quindi bisogna assolutamente intervenire su questi sprechi, per carità anche ridurli. Questo significa ridurre anche i costi della Camera, ridurre anche i costi del Senato, perché no? Magari affittare anche dei locali, cioè per carità che ci sono. E conseguentemente riducendo i costi il personale che ovviamente si riduce anche questo, lo si può tranquillamente mettere in altri enti dove c'è carenza di personale, perché voglio dire alla fine c'è tanta carenza di personale, non vogliono assumere, non possono assumere, quindi si può ridistribuire. Ma questa è la logica che fanno tutte quante le holding che hanno sotto delle aziende che poi cercano sempre nell'ottica di ridurre i costi, di riequilibrare i costi per cercare di rilanciare l'azienda e in questo caso per cercare di rilanciare il Paese. Ma non lo fanno, capito? Non lo fanno. E quindi sono tutti quanti lì. Oggi c'è la rincorso dei candidati, ci sono 98 partiti, tutti vogliono diventare parlamentari, tutti corrono per diventarlo, però voglio dire, è come se ormai diventare parlamentare fosse un'ambizione, lo stipendio. Io sono del parere, come ho scritto nel programma del Movimento, addirittura di tagliarlo, ma non come ha fatto il Movimento 5 Stelle che lo taglia ai parlamentari e per poi metterlo in un fondo che dicono che questo fondo va a confluire il microcredito, poi vai a scoprire che col fondo che costituiscono il microcredito non è sufficiente per pagare il microcredito e che poi scopri che questo viene prodotto dalle banche, lo dico io stesso perché lo faccio, e quindi il microcredito è di competenza delle banche. Ma voglio dire, grande confusione. No, io sono proprio per un taglio netto, nel senso che questo bisogna farlo per legge. Si deve ridurre lo stipendio parlamentare, io ho prodotto un tetto di 5.000 euro, perché comunque un parlamentare se lavora, da lunedì al venerdì, diciamo che lavora. Tante volte in Parlamento non ci sono le sette ore che si timbra il cartellino, quando ci sono atti urgenti si fanno anche la notte, questo è il dovere di un parlamentare. Ma 5.000 euro credo che sia uno stipendio giusto, senza il vitalizio, perché si deve applicare il concetto di un dirigente, io l'ho riparametrato a dirigente di un'azienda e il comporto, cioè l'accantonamento della contribuzione, come ce l'abbiamo tutti quanti noi, va nella gestione separata dell'Inps, ma nel metodo contributivo, nonché il parlamentare deve avere un doppio vantaggio, deve avere quello suo personale e più il vitalizio. E questa nell'ottica, nel lungo termine, se si va ad analizzare tutti i parlamentari che hanno goduto, si arriva anche all'importo, che le ho detto, metterlo in questo calderone e si arriva all'importo di 554 miliardi di euro. Cioè bisogna analizzare voce per voce per tirare fuori questo elenco, questo importo, scusi. Proprio nel vedere il fatto che il tetto, il giusto tetto, di quello che potrebbe essere uno stipendio per un parlamentare, vado anch'io a ripescare su un concetto che una volta dicevano se non gli dai abbastanza soldi, sono corruttibili. Con i soldi che prendono sono corrotti quasi tutti, perché io dico quasi perché non si può dire tutti, ma voglio dire molti sì, e allora vuol dire che non è questo il funzionamento. Allora bisogna dare un giusto stipendio e poi trovare gente che abbia voglia di fare per suo principio il bene della gente e non come fosse un concorso per trovare il posto migliore dove andare a prendere tanti soldi per un periodo e poi avere un vitalizio perché se no questo allora sì, c'entra niente. Non è una persona che vuole il bene dell'Italia, non vuole il bene del popolo e non è una persona che pensa a un bilancio modello familiare, perché nel modello familiare quando il papà vede che c'è bisogno di più soldi, dice alla mamma se ti trovi qualche lavoretto anche tu sarebbe bene e quando i figli diventano grandi per riuscire a stare bene in famiglia anche i figli cominciano a lavorare, non necessariamente si lavorano, cominciano anche da giovani. Questo è un bilancio familiare classico. Se invece cominciamo che una persona investe, un bancario lo sa, che si fanno prestare i soldini pur di fare la campagna, pur di arrivare al punto perché dopo è un valore di carnevale, allora non serve più niente. Allora mettiamolo giusto il tetto e cerchiamo di garantirci che sia una persona che non lo facciano per il solo interesse di arrivare lì perché pianto la mia bandierina e a quel punto sono a posto. Per quanto riguarda la campagna, visto che hai citato la campagna elettorale, io posso anticipare, ma poi lo vedranno tutti, che la nostra campagna elettorale è a costo zero. Noi partiamo dagli sprechi anche da noi stessi perché poi siamo anche autofinanziati e quindi siamo a costo zero, ma soprattutto non ci facciamo finanziare da altri una campagna elettorale perché questo poi significa andare sotto scacco e quindi significa poi essere soggetti ricattabili. Noi speriamo, io ringrazio le tv come le vostre, che ci danno questo spazio per promuoverci, per parlare di noi, per cercare di far capire l'onestà intellettuale, da che parte sta e chi ha interesse verso i cittadini, ma la nostra è una campagna a costo zero. Quindi è un grosso sacrificio. Sappiamo tutti che quando i partiti spendono tanti soldi, voglio dire, c'è sempre poi dopo un tornaconto. Lei ha detto prima, ha fatto un passaggio, quando ai parlamentari si decise, ma siamo parlando di 70 anni fa, quando ai parlamentari si decise di dare uno stipendio alto perché fosse adeguato e che fosse poi, e diventasse poi una persona incorruttibile. I primi anni è stato così. Poi invece che cosa abbiamo visto? Dal 93 poi, dall'avvento Craxiano in avanti, fino ancora oggi. Abbiamo visto una marea, una quantità di deputati arrestati, una quantità di delinquenti in Parlamento ancora oggi ci sono, tanto che io dico che oggi chi approva le leggi è una parte di delinquenti che ancora siedono in Parlamento, quindi non bastano nemmeno i 15.000 euro. Non posso dire così del Movimento 5 Stelle perché non sono stati al Parlamento, non hanno governato, cioè sono al Parlamento, non hanno governato, quindi questo non lo posso dire, perché poi bisogna vedere quando governi. Però gli altri che prendevano l'importo di 15.000 euro più tutti i benefit, perché poi si dà un importo, ma non si dice quali sono i benefit che si arriva anche ai importi alti. Nonostante tutto abbiamo visto che c'è una percentuale altissima, altissima, di persone che sono state condannate, di persone che sono state indagate, inquisite, addirittura tanti, sia a destra che a sinistra, arrestati senza fare i nomi. Basta andare a vedere, cioè voglio dire, la percentuale è alta e prendevano uno stipendio alto. Io invece credo che o ti sganci dalle caste, hai il coraggio di sganciarti dalle caste, e questo bisogna avere il coraggio di farlo, perché se tu non ti sganci da questi, allora tu potrai prendere pure 20.000 euro al mese, ma ti mettono sul tavolo una bustina, tu la prendi, perché il soldo purtroppo è quello che rovina la persona, ma soprattutto se tu entri in Parlamento come soggetto ricattabile. Quindi io preferisco non entrare paradossalmente in Parlamento, ma essere una persona che rimane con la sua dignità, con la sua onestà intellettuale, ma non essere ricattabile. Allora, per questo ho voluto dare un nome così forte, che fosse non solo una provocazione, ma che fosse un inizio, un principio di una novità, che deve esserci in Parlamento, perché siamo arrivati veramente al top, siamo arrivati al massimo. E oggi quando vedo che sono gli stessi partiti, con le stesse persone, che si ripresentano a me, viene il mal di fegato. Allora dico, costi quel che costi, io mi presento. Poi sarà il cittadino che farà la sua scelta e dirà chi vuole approvare. Se vuole approvare la parte della disonestà, e lo dicono i numeri, o vuole approvare un tentativo come il nostro, unendosi al nostro esercito, e far sì che noi arriviamo lì. Io sono sempre stato contrario alle rivoluzioni di piazza. Ho sempre detto, devo fare un movimento politico così forte come questo. Io non voglio fare una rivoluzione di piazza, io voglio entrare dentro il Parlamento, perché io mi conosco, conosco tutti quanti i miei che compongono la mia squadra. Allora, diciamo, facciamo un esercito. Si sono fatti i gruppi, i disonesti, per fare i disonesti, si sono formati in gruppi. Una volta che c'è un gruppo di onesti che si forma in un gruppo, viva Dio, premiamolo. Ecco, quindi un movimento di gente che di solito è quella un po' silenziosa, quella che fino adesso ha sempre subito, ma che cerca una volta tanto di fare in modo che certe cose non succedano più. Una cosa che c'era stata suggerita era il problema dei giovani, visto in due modi. I giovani è il lavoro e i giovani è anche però la scuola. I giovani è la scuola, perché anche qui io sono d'accordo sul fatto che adesso gli insegnanti hanno perso molto del loro valore di educatori, perché purtroppo nella scuola adesso dobbiamo stare attenti, neanche dare troppe attenzioni alle note, attenzione a cosa dicono, perché i genitori ti denunciano. Siamo arrivati veramente a degli estremi sbagliati, secondo me, perché la funzione di educatore doveva restare e doveva essere anzi protetta per quello che riguarda gli insegnanti. E poi la scuola che, insomma, le lauree sono tante, sono facili, non producono in realtà grosse possibilità di lavoro, perché solo in certi campi si riesce ad andare avanti, e solo chi la testina ce l'ha. Se una volta poteva essere un sistema per arrivare più avanti possibile senza andare a fare militare, adesso non serve più, militare se non vuoi non lo fai, non serve, non è più obbligatorio. Allora, troppi che studiano per niente, perché non risolve la situazione, e insegnanti che non sono in grado di dare il loro apporto di educatori. E poi è una scuola che ha orari, non orari, lo sport che c'è, che non c'è. Qui la riforma dovrebbe essere un po' più sostanziosa, no? Allora, sul tema della scuola, sul tema della scuola diciamo che è entrata troppo la politica in questi ultimi anni, e quindi la scuola è troppo politicizzata. Premesso che si favorisce di più la scuola privata che quella pubblica, perché una volta la scuola privata era una minoranza, oggi invece è una maggioranza. E quindi la scuola pubblica, poi Renzi, il governo Renzi, che ha dato addirittura, ha trasferito i poteri alla scuola privata, quindi lei si può immaginare, si può immaginare con la troppo politicizzazione che c'è alle scuole, che ormai, voglio dire, entrare a scuola è come entrare in politica, no? Poi è chiaro che si perde il senso dell'orientamento, si è perso tantissimo. E gli stessi insegnanti, ci sono sempre quelli bravi e quelli meno bravi, si è persa la funzione di educatore, ma soprattutto non si stanno portando all'interno delle scuole delle novità. E allora bisognerebbe portare all'interno delle scuole nuove figure professionali che lavorassero sulle professioni. Una volta esistevano le professioni, oggi non ci sono più. Si deve introdurre un metodo scolastico, anche una figura professionale nuova, un nuovo professore di prevenzione sanitaria, perché bisogna sempre andare a prendere tutte quelle materie, oggi, in tema di prevenzione, che vanno poi nel tempo, intanto trasferiscono un'educazione diversa all'alunno, ma che col tempo queste possono produrre minori costi, perché bisogna sempre andare a risparmiare. E quindi bisogna cercare di lavorare per prevenire. E questa prevenzione all'interno delle scuole non c'è. Sull'università, lei ha ragione, ma se si ricorda la ministra Gelmini tagliò addirittura le università. E cos'è che tagliò? Tagliò quelle università che lanciavano nuove professioni. Allora, se oggi mi tengono aperta ancora una facoltà di giurisprudenza, dove abbiamo 500.000 avvocati, che sono lì, una parte di loro sono tutti quanti a piede libero, cioè a piede libero, scusate, disoccupati, poverini, e che tra di loro si devono fare una concorrenza spiedata, allora introduciamo un numero chiuso, anzi, cerchiamo di aprire delle nuove facoltà, lavorando sulle professioni. Oggi in Italia le professioni si sono perse, non si fa più agricoltura, non si lavora più sull'arte, non c'è la facoltà del turismo, non ci sono più, addirittura avevamo un ministero del turismo che l'hanno chiuso, cioè non si fa niente per promuovere le professioni o addirittura andarle a riprendere. Io mi faccio un'analisi e dico, ma dal dopoguerra fino agli anni 80, cos'è che ha prodotto il boom economico? L'ha prodotto le professioni. Oggi perché queste le hanno completamente cancellate? Non dico che oggi tutti vogliono avere il colletto bianco, per carità, anche un agricoltore prima di andare a lavorare la terra può studiare, anzi deve studiare e si deve iniziare a... Ormai sì, ormai deve studiare anche lui. Però si deve partire dalle scuole già elementari e sono queste le materie che pure vanno cambiate. Quindi intorno alla scuola c'è troppa politica e lo abbiamo visto negli anni, tanto che le hanno distrutte, le facoltà stesse le hanno anche distrutte perché anche all'interno, con questa autonomia che hanno dato, si è troppo politicizzate e sono troppo politicizzate. Allora bisogna fare un riordino delle università, ma non per chiuderle, per riequilibrare le materie, per riequilibrare e soprattutto indirizzarle in un'ottica di globalizzazione, siamo nel 2018, di quelli che possono essere, secondo una previsione, se un buon governo è capace di fare una previsione per dove e per come fare ripartire il paese, allora bisogna spostare anche l'indirizzo delle lauree in questo. E quindi mi fa ridere quando uno si diploma prima di entrare all'università, fanno quell'esame di indirizzo e poi alla fine finiscono sempre dove vogliono. Ecco, è tutta una farsa. No, bisogna anche lì avere proprio, bisogna intervenire, ma pesantemente, e non bisogna mettere la politica all'interno delle scuole. Quindi queste cinque anni di elementari, tre anni di medie e poi le superiori, si potrebbero accorciare e portarli obbligatori, sì, ma con un certo modello di studio, invece che per diventare, da 13 anni, per diventare 10 al massimo, secondo me 9-10, dopo da quel momento in cui uno ha una scuola superiore forte, potente, che lo ha anche portato eventualmente vicino alla possibilità di andare a lavorare, se vuole fermarsi lì, quindi con una cultura quasi da laurea breve e poi la laurea specialistica. Allora, lì sì, diamo, però a quel punto allora uno ha capito se è il suo, se è il suo mestiere, se è la sua voglia e se no ha comunque in mano qualcosa di forte. Viceversa, alla fine di tanti, di 13 anni di studio, che ha fatto un liceo classico, cosa fa? Se non va all'università, non può più fare niente. Quindi una scuola che dia sicuramente anche delle capacità tecniche. E poi l'università, quella vera, che secondo me è quella magistrale, non sono i primi anni, i primi anni è un po' più in alto di un qualsiasi, diceva, siamo lì, quindi accorciare anche i tempi perché i ragazzi se possono cominciare a lavorare a 25, 26, 24 anni hanno anche un bello spirito, se cominciano a 30. Una volta, una volta i nostri genitori, i nostri genitori facevano i sacrifici per i nostri figli e ci facevano fare la magistrale, ci facevano fare tutti i cinque anni di università. Oggi veramente arrivare al terzo anno, come dice lei, io concordo, condivido con quello che dice lei, ma oggi arrivare già al terzo anno è comunque un sacrificio per i genitori. Per i soldi sì. Sì, il tema dei soldi, perché? Perché intanto i soldi nelle famiglie cominciano sempre a venire di meno, le tasse comunque strozzano le famiglie, i figli non lavorano, magari le famiglie diventano monoreddito perché tanti dimenticano quando Renzi va in televisione a dire, Renzi è anche gentiloni, gentilenzi, come io lo chiamo così, va in televisione che hanno assunto nuove persone, in realtà la Jobs Act ha prodotto soltanto il precariato, ma non vanno mai a dire qual è la percentuale, non la percentuale, il numero esatto, preciso, dei disoccupati che creano e che stanno creando e si viaggia intorno a un milione, un milione e mezzo l'anno e c'è sempre un tasso di crescita dell'1,40 all'1,50 ma sono dati reali che l'Istat ovviamente non dice perché parla sempre puntualmente dei nuovi occupati senza dire quali sono i disoccupati, poi invece uno che analizza bene il fenomeno allora dice intanto gli occupati con il precariato diventano disoccupati, le aziende chiudono e i dipendenti diventano disoccupati ecco come si arriva a un importo così alto. Sì, sono d'accordo che bisogna ripristinare la scuola come dice lei e anche è giusto però il tema di fondo non è soltanto dire ok ripartiamo dalla scuola qui dobbiamo ripartire dal lavoro cioè dobbiamo ricreare le condizioni per poi prendere questi giovani e metterli al lavoro perché se tu li fai finire prima di studiare a 18 anni sono pure laureati no? sono laureati e poi dove li metti? Cioè oggi non dimentichiamo che ci sono persone di 40 anni che vivono ancora con i genitori i famosi bamboccioni come li hanno sempre chiamati sia da destra che da sinistra che vivono ancora con i genitori a 40 anni che non hanno la possibilità non hanno un euro in tasca e i genitori oggi che avevano quei pochi risparmi se li avevano addirittura li hanno tolti per mantenere un figlio che a 40 anni non può nemmeno andare a vivere da solo quindi alla fine se tu li lauri a 18 anni e poi li tieni fino a 40 a casa sempre che poi a 40 iniziano a lavorare allora bisogna ricreare le condizioni del lavoro e per ricreare le condizioni del lavoro prima credetemi io spero che i cittadini condividano cosa che dico io bisogna mettere in ordine i conti dello Stato ma mettere in ordine i conti dello Stato significa portare dentro dei professionisti veri non i tecnici prestati alla politica che poi si fanno assorbire da loro portare dei veri professionisti che prendano tutti questi bilanci che creino le condizioni per fare in modo che la politica non entri la casta che non entri dentro il lavoro che non entri dentro il nostro lavoro noi abbiamo previsto anche un sistema di autoriti che non sono le autoriti che costruiscono loro che poi sono politicizzate noi vogliamo introdurre un sistema di autoriti che faccia il controllo dei controllori ma un sistema di autoriti che vada a premiare soprattutto dal presidente dell'autority a tutti i dipendenti sul mercato con la ricerca sul mercato di quelli che sono in base ai curriculum i profili giusti e queste autoriti che noi abbiamo previsto che spaziano dal mondo dello sport dal mondo dell'agricoltura e quindi per fare questo bisogna portare dentro delle professioni da dove mi arrivano queste professioni mi devono arrivare dall'ambito universitario ma se poi io chiudo le università dove nascono queste professioni allora a quel punto che faccio avrò un esercito di avvocati avrò un esercito di persone di altre materie le più importanti ma anche medicina che poi alla fine voglio dire che cosa hanno da fare questi nostri ragazzi in Italia il lavoro non c'è c'è sempre più disoccupazione li perdiamo e li lasciamo andare all'estero e questa è la cosa che veramente bisogna pensare quindi bisogna ricreare le condizioni del lavoro e per ricreare le condizioni del lavoro bisogna fare anche un atto coraggioso un atto coraggioso che non è la flat tax che propone Berlusconi ma bisogna sì abbassare le tasse ma bisogna avere un piano di ripresa e di sviluppo se tu non hai un piano di ripresa e di sviluppo non puoi dire abbasso le tasse perché oggi quello che loro fanno è promettere soldi ma fanno il tappabuchi abbassano da una parte danno dall'altra e prelevano dall'altra e questo l'abbiamo visto sono 30 anni che fanno questo gioco in realtà no bisogna avere un piano preciso come si fa nelle aziende un piano industriale quinquennale e poi si rivede c'è anche la possibilità in base allo studio che abbiamo fatto la possibilità se se il cittadino desse una maggioranza forte a noi ma non la darà se la desse questa maggioranza forte ci sarebbe anche la possibilità al termine del quinto anno di dire se ci lasciassero lavorare in Parlamento allora di dire al termine del quinto anno possiamo anche rivedere rinegoziare le condizioni con l'Europa che oggi l'Europa ci sta strozzando perché noi per pagare il debito produciamo altro reddito all'estero e non in Italia perché siamo oggi quando dicono nelle mani dell'estero è perché oggi loro comprano il nostro debito che poi noi dobbiamo pagare e quindi ci governano e ci controllano tant'è perché Berlusconi è dovuto scappare alla Merkel dopo che regalava soldi a tutti quanti in televisione che regala soldi è dovuto scappare alla Merkel per dire stai tranquilla che il 3% io lo tengo sotto controllo e allora se oggi si ha dato alla Merkel la rassicurazione di tenere sotto controllo il 3% vuol dire che se il parametro rimane sempre il 3% non vada in televisione a dire regalo a tutti perché il 3% per quel parametro senza una ripresa senza una riorganizzazione senza un taglio effettivo dei costi allora vuol dire effettivamente ancora tagli e sangue lacrime e sangue adesso col problema del lavoro siamo anche verso la chiusura quindi vado rapidamente con il discorso del lavoro è stato che all'improvviso con un tratto di penna e con una piccola due righe hanno cancellato quello che era un sistema che vedeva tutte le persone tipo i ragazzi che lavorano nel fine settimana da portare le pizze in poi quelle cose facili che non avevano un reddito che arrivasse ai 600 euro e automaticamente risultavano disoccupati cancellando quello una persona che è assunta anche solo per portare le pizze e lo chiamano una volta al mese quindi non prende assolutamente niente quello risulta occupato e per San Presto a creare posti di lavoro così dire che li abbiamo creati non sono veri questi sono assolutamente fasulli ma sono tutti i dati che producono sono tutti fasi perché l'Istat prende sempre dei dati di occupazione cioè va a vedere quelli che sono occupati ma non va a vedere e non dirà mai non dirà mai il tempo determinato cioè la media dei contratti di assunzione e la media è molto corta quindi voglio dire questo è vero ma di chi è la colpa anche la colpa è dei sindacati perché i sindacati hanno sempre favorito quando hanno anche approvato l'abolizione dell'articolo 18 quando hanno approvato la riforma Fornero i sindacati che dovrebbero tutelare i lavoratori e i giovani non li tutelano si sono messi in politica i sindacati ma no i sindacati sono i sindacati i tre maggiori sindacati sono l'anticamera della politica io favorirei più quei piccoli sindacati come noi piccoli partiti che vogliamo veramente cambiare le regole e purtroppo non ti lasciano spazio i grandi partiti non lasciano spazio a noi piccoli intanto è vero che con Rosatellum ci hanno distrutto ci vogliono distruggere non ci vogliono far entrare nel Parlamento e noi troveremo il modo comunque di entrare o da soli o accompagnati mai entreremo ok e così è lo stesso il sindacato e quindi la colpa è proprio del sistema è talmente corrotto è talmente ormai incastrato tra di loro la casta ormai li ha talmente presi entrambi che ormai voglio dire vanno d'amore è d'accordo insieme compresa anche la Confindustria perché il male maggiore di questo paese è anche la Confindustria che ha perso proprio l'orientamento purtroppo la Confindustria produce l'indotto per le piccole e medie imprese quindi bisogna anche stare attenti alla Confindustria questo grande sindacato degli industriali che però si è da tavola con i governi e si è sempre a tavola col governo sia di destra che di sinistra il paese si è completamente ammalato mi creda e questo è il tema bisogna proprio veramente cambiare però per cambiare bisogna che il cittadino si convinca soprattutto l'astenuto si convinca che è un progetto come questo tanto uno dice che cosa cambia sappiamo che questi che torneranno a governare produrranno altre perdite e perderanno tempo tanto che si dice che addirittura pare che c'è un accordo in Nazareno che fra un anno si torna al voto adesso ci costano 400 milioni di euro fra un anno già loro si sono messi in accordo che vogliono tornare al voto ed è vero perché noi partecipiamo sentiamo di questi accordi i soldi a loro non gli importa 400 milioni per noi sono importanti e questo è il problema loro non tengono conto di questo e però vanno in tv a regalare fino a ieri anche il PD fino a ieri il PD ha tolto ha aumentato solo le tasse adesso va in televisione a dire che regala anche lui come Berlusconi si fanno una guerra su chi più regala compresa anche il 5 Stelle su chi più regala il 5 Stelle il radio di cittadinanza senza sapere però quali sono le conseguenze negative basta che vado in Argentina per capire che cosa significa dare un reddito a dei ragazzi a dei giovani per sempre che poi questi non vanno a lavorare che fai chiudi le imprese perché non trovano il lavoro o devi andare all'estero a portare i giovani cioè cosa che sta succedendo anche già in Sud America che danno il reddito di cittadinanza e che le aziende oggi non trovano la mano d'opera e se la vanno a cercare all'estero cioè attenzione reddito di dignità da una parte adesso Renzi ne ha detto un altro ma nessuno parla di ripresa nessuno parla di sviluppo nessuno parla di sprechi ecco quindi per così per riassumere per casta sono tante caste eh immagino tante industrie di caste ecco dovessimo allora così semplificare il tutto dando un minimo di appello alle persone intanto credo la prima cosa da dire andateci stavolta a votare perché se no potreste non votare io sono sempre dell'idea che potremmo anche non votare più poi se va a finire male e questa è l'ultima volta in cui possiamo veramente ancora esprimerci totalmente secondo me e poi e poi se lasciate fare agli altri ragazzi non ci si può lamentare ecco quindi quindi stavolta credo che sia il momento in cui bisognerebbe tornare ai 92 93 95% di votanti dove proprio chi poverino è fermo in un letto d'ospedale non si riesce a muovere e forse anche magari perché non riesce neanche a connettere allora certo votare non può ma dedotte queste persone impossibilitate da cose gravi non vedo non vedo ragione perché gli altri non votino sì io non so quanti minuti abbiamo ma al lato della presente due mamma mia allora sia chiaro voglio passare questo messaggio a tutti oggi per ricreare le condizioni del mercato del lavoro fatto tutto quello che abbiamo detto prima bisogna intervenire sulla riforma Fornero Monti Fornero ma attenzione io non vado in televisione e dico come fa Salvini come fa Berlusconi come fanno gli altri che dopo averla approvata con il governo Monti Fornero oggi vanno in televisione a dire che la devono addirittura cancellare oggi c'è una necessità bisogna ricreare le condizioni del lavoro perché altrimenti non puoi rivedere la riforma Fornero e quindi ricreare condizioni del lavoro significa avere gettito nelle casse dell'Inps che possono creare pensioni future fatto questo si deve rivedere immediatamente la riforma Fornero perché? perché se oggi non si prende il lavoro se non si dà il lavoro è perché avendo spostato il limite con la speranza di vita lo fece Sacconi destra non ha approvato la Fornero Sacconi di destra che io ebbi modo di dirglielo al Senato peccato che però non vanno in televisione a dirlo bene allora bisogna assolutamente ricreare queste condizioni e bisogna ridurre l'età pensionabile perché noi siamo il paese l'Europa che ha la percentuale più alta l'uscita pensionabile che non è 67 come dicono ma bisogna conoscere i meccanismi 70,9 per chi non ha raggiunto i 46 anni di contributi attenzione allora è 71 di fatto perché è ciclica ogni due anni aumenta il ciclo della vita di tre mesi e la speranza di vita l'hanno voluta loro l'hanno approvata loro allora bisogna intervenire in questo senso ma intervenire in questo senso se tu intervieni la tagli distruggi anche il patrimonio dei pensionati bisogna ricreare il lavoro per ricreare le condizioni e bisogna intervenire da passare le pensioni purtroppo questo errore l'hanno fatto quando fu approvata la riforma a Monti Fornero che si poteva ancora intervenire se vi ricordate in Francia quando hanno portato da 65 a 66 tutta la Francia è scesa in piazza tutta la Francia è scesa in piazza è arrivato Hollande Sarkozy è arrivato e l'ha riportata da 66 a 65 perché attenzione quando il popolo si incazza la politica fa un passo indietro da noi ci hanno portato via la pensione a 7 anni non ti danno la possibilità che io che esco in pensione a 70 anni quando ho il ricambio generazionale quando un giovane può entrare a lavorare mai eppure gli italiani sono scesi in piazza no si astengono dal voto scendono in piazza ma sulla piazza virtuale ad offendere chi persone che dicono vogliamo lavorare per il tuo bene e poi premiano lo vediamo dai sondaggi gli stessi partiti che si ripresentano lei ha fatto l'ultima lei ha fatto un appello andate a votare perché si deve votare attenzione andate a votare il nuovo non votate il vecchio perché chi si astiene oggi e non vota il nuovo quel 20% può rovinare il paese può rovinare il paese perché è sufficiente che il 20% anche il 10% perché non c'è quorum va a votare destra o sinistra non importa tanto gli inciucio l'hanno già fatto Renzi e Berlusconi gli inciucio l'hanno già fatto sono già d'accordo ma certo perché con Rosatello non raggiungerà una maggioranza sono già d'accordo ok quindi è quell'80% che deve veramente dire basta toglietevi fuori dalle scatole togliamoceli fuori dalle scatole ha 80 anni ma vattene in pensione basta Renzi non sei un buon politico hai distrutto un paese il PD ha dimostrato di averlo distrutto il PD opera solo con tagli tagli ma non tagli sui costi tagli sul cittadino l'ha detto Gentiloni abbiamo rimesso a posto i conti però abbiamo dovuto fare un po' di sacrificio alle famiglie ma dobbiamo sempre fare sacrificio alle famiglie allora facciamo una volta una spending review dall'alto e non una spending review dal basso 18 milioni di famiglie oggi sono povere 18 milioni ci sono quelli che sono poveri 4 milioni che non hanno un euro e che oggi lo Stato non essendo più perché chi si va a leggere il Salva Italia di Monti lo Stato non è più assistenzialista se uno che non ha un euro deve andare all'ospedale deve pagare il ticket non ha il ticket non si cura almeno in America dicono se paghi l'assicurazione ti curi se non ce l'hai qui voglio dire niente questo non paga le tasse fuori e questo è il tema e un'altra parte 14 milioni di italiani che stanno entrando nella fascia della povertà perché questo? perché ci stanno portando in quelle condizioni ci devono governare per arricchirsi basta questa gente non ne possiamo più allora amici ricordiamocene il 4 marzo ecco questa è la conclusione ricordiamoci di quello che abbiamo detto stasera ognuno faccia le sue valutazioni per carità perché è giustissimo però quello che avete sentito potete anche risentirlo perché andremo a mettere la puntata anche su YouTube quindi se avete avuto dei dubbi potete riascoltarla con piacere Giuseppe Prete magari tornare a trovarci più avanti anche magari dopo il momento elettorale vediamo com'è andata e se riusciremo a vedere qualcosa che si muove saremo felici che sia la gente onesta ad assi da fare dopo ripeto Vinci sta tutto nel nostro tratto di penna sulla scheda quando sarà il 4 marzo grazie a Giuseppe Prete buona serata a tutti buon weekend ovviamente e avanti così come sapete Casa Caffè è sempre con voi per darvi l'informazione più diffusa possibile grazie arrivederci e in bocca al lupo agli italiani grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti